Partito Si hai detto partito, andiamo? Andiamo! Bene ragazzi il MrL è un coglione Mi dice partiamo, poi sta zitto Stavamo dicendo, siamo su Battlefield 1 La open beta, vuol dire Beta aperta Ok ragazzi, quindi io MrL le volevo dire E l'abbiamo notato entrambi Già negli anni 80 i neri erano discriminati Figuriamoci nel 1915 quel che era Perché c'è un nero qui vestito Cioè tu nel 1915 c'è un nero Non gli davi soltanto Per la paretta per il giardino Non gli davi i fucili in mano Cioè siamo già un errore storico Che proprio mi ha abbassato Guarda, e l'impero ottomano ancora ancora Ma lui non è turco, proprio nero d'Africa Si ma poi dipendi Io Rashid bravo a usare i fucili d'assalto Ma è bello che... Andatevi a vedere i video di Rashid Ishmaul Ma comunque han detto Già l'elettronica ha detto Che non sarà prima guerra mondiale Sarà un po' cambiata Perché ci sono armi anche della seconda Tipo già i fucili automatici nella prima Che, che cazzo è Se proprio volete ragazzi Mi sento sconsolidizzare un prodotto Che non so neanche io se è bello Verdun è un gioco per su Steam Così è proprio un vero Prima guerra mondiale simulator Dove tu hai lo scopo di essere mandato al massacro Il kit medico è una bibbia e una croce Si Ma perché non va porca troia Si fino a 5 minuti fa andava Vuol dire che... C'è qualcuno che porta sfiga qua Stiamo guardando... Perché tu non sta guardando me? Eh perché tu sei entrato in casa Accendo Battlefield 1 non va Cazzo no aspetta Eh proviamo Rush Eh si c'è la lingua inglese e basta qua Per adesso Si è ancora una beta Si è appunto Tu sai che fare tu prima dove avevi cliccato Eh come? Io intanto vi tratterò parlando in tunisino Bello porca però C'era già gente che su Facebook diceva Eh ma gli Overwatch o Battlefield 1 E la beta cazzo come fai a dirlo? Sto cercando un server decente Vediamo È online? Pieno si Pieno 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 34-66 Eh però sti qua sono americani Ah Americano Prima ti danno l'arma Dopo ti dicono come usarla Costruita dai neri e patria dei cinesi No è rubata non finita Bravo Poi dice a me tu le rubi tutte le battute Tu l'hai appena fatto Complimenti Ah deserto del Sinai ok Quindi ci troviamo un monto dove c'è Mosè che si spara le magie dall'alto E usare le tavole dei comandamenti come boomerang Tipo Tipo alla Call of Duty i gadget Mosè che lancia le tavole dei Un zio siamo tutti tunisini No lib squad Posso parlare con Rashi Come Rashi Se fossi Rashi No ma guarda che siamo Aspetta Guarda che noi siamo inglesi No vai con Tur No ora io vengo da te a giocarci solo perchè posso essere un tunisino Si guarda che c'era le turchie nel primo guerra mondiale Guarda che bella Guarda ti prego Guarda 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 il braccio che copre la metà schermo Bello Si guarda che ancora la beta quindi Va a parlare un po' Cioè come dire Mettite nella squadra che tunisini se vuoi così Eh non posso perchè sono i nemici quindi io non posso devo essere inglese Si faceva la voce di Rashid Eh no no non puoi fare Io ho tradito mia patria tunisia unita e unito a inghilterra Entrato come spia a Bretonnia Entrato come spia Cos'è qua Rashi No aspetta sbagliato Per ora la prima guerra mondiale non è così perchè saremo La prima guerra mondiale Voi scelto uno scudo ma uno scudo Avete lo scopo di essere uno scudo Dovete mandare avanti E farvi mitragliare Affinché quelli dietro di voi riescono ad aggiungere le tue nemiche Ok abbiamo armato qualcosa Ho armato una bomba Ho messo la bomba Ah dobbiamo Perché sono fermo scusate No si è buggato Ah no ok adesso va No 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 Perché non funziona Eh lag grazie grazie lag grazie Vai vai puoi farti valere qua Distruggeri tutti Vai 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 Anni di Call of Duty Puttana Bravo No io ho appena entrato appena entrato Ho già fatto Ho fatto qualche partito Guarda la vita 3 di vita Io in pratica Sono vivo perché Perché ti dice vivo Ma tutto il resto non è vivo Puoi far provare anche me? No Stavo scherzando si Oh bomba armata Adesso mi cambierò qua Eh bravo sdraiati Deve essere utile Ah no era la mia bomba Ok credo Ah no il tank là Guarda che bello il car armato Che ha sparato il tuo cadavere Così perché Che ha sparato il tuo cadavere Che è Magari che pensavo no Deve essere sicuro Sai che ti sono messi un cavallo Io so fra tattica Quando si entra in trincea L'ho conosciuta leggendo un libro di ricogni esterni Un tipo che sopravvisto la guerra mondiale Era tu corri E ti butti per terra Facendo fine di essere morto Ti rialzi dopo In serio perché Si Scusa ma Ma pensare sparato i cadavere Che magari giù vivi no? No ma quando sei in trincea Quando attacchi la trincea nemica Ah ok se no cosa sparavano tutti Cioè tu non vai a controllare i cadavere Controlli quelli i piedi che ti buttano i quadri fucili Aspetta Non cadere non cadere non cadere Eh guada guada L'ora com'è rigido il sistema di gioco è No udio udio la mia cama Sparagli Non ti può colpire Non ti può colpire Fuck Ah il parca du Sono vivo Ok c'è ancora un armato davanti Non sai se è il mio nemico Io non so neanche dove cazzo sono finito E' questo problema Per ora ragazzi non ho visto E' questo problema E' salvi Va bene che è la campagna Ma guarda che è la guerra quindi Ecco qua Ecco grazie Posso provare a tenere io i joystick ma non so No guarda guarda lo bastardo Guarda lo bastardo lì in fondo Ho fatto un cecchino qua Ok ora il joystick Ma lo sono moralizzato a uccidere da shid Qua ora io dovrei essere un turco No Guarda che sei un Guarda che sponare Eh x Non funziona Non funziona Perché se fosse il caricamento del Ok Adesso andando a questo fucetto No Tenga una pistola poi ci sono Guarda là 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 il camper non è che c'è solo questo mette fuori il muso e lo shot come hai fatto a vedere che c'era il muso? è la sensibilità lo so degli abituati ci si deve abituare ragazzi eh però come faccio a girare la misura sensibilità no ricarica che figo ah che casino siamo esposti come una bandiera ragazzi si guarda tu guarda queste mappe guarda quelle di Call of Duty devo aumentare la sensibilità perchè si gira come se avesse mal di schiena si come se avesse mal di schiena camper 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 beneee e uno, ah è il shot bonus sono esposto si eh non duravano cavolo copritemi copritemi qua già dopo due proiettili saresti morto in primi secondi come ho fatto? sai che hai anche la maschera antigas faccio a mettermi, no sono morto ragazzi adesso sono morto non sei morto hai 87 di vita cosa come hai il turn to combat? a me sai che sei un attimo uscito si ma la maschera antigas occupa un po' di visi come facciamo e freccetta su cavolo freccetta su bravo ah granate ma io non frag e granate qua il camper vince ragazzi ho già visto oh mio dio basta ragazzi dammi il fucile che io ho già minuto il gioco e ah no guarda che sti qua sono come eh sono morto anch'io no guarda che non è come quello di che spari bom 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 e carica bom e carica eh lo so ma io ormai c'ho il feeling con i cerchini ma sono di camperare avrò imparato qualcosa ah non è come che se lo prendi sul toro non è che lo cammati sul colpo dipende quello in testa sono il suo cazzo io ho soltanto fucile ammazza se capisco allora vediamo si siamo esposti come una una banda ruola 40 secco ma non so non so se stiamo vincendo stiamo perdendo 39 ma non lo so no penso che stai perdendo andiamo fatta maschera maschera antigas o non ho neanche capito come funzionava non fare dobbiamo eh neanche io perchè è la prima è la prima volta oh guarda che di che c'ha una fila il blocco guarda l'hai vista guarda bene guarda lì guarda 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 prendo bene la mira prendo bene la mira o lo prendo bene o non lo prendo prendilo al petto io non ho dimestichezza con queste cose torna a combattere disertore disertore aspetta dai dai venite fuori venite fuori eh si comunisti sono tuoi sono tu guarda che non c'è fuoco amico qua eh saliti 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 che figata guardate sai che ti possono ammazzare anche se sali eh eh lo so ma intanto siamo protetti puoi sparare? abbiamo vinto ragazzi eh lo vedi e già ti abbiamo superato caro beauty perchè possiamo guarda guarda il disco di black ops 3 è esploso da quello che ha visto esploso perchè ormai sei depresso così tanto ecco sei morto se vedi che ti stanno distruggendo il cararmato con il bazooka esci eh lo so ma scusa io non ho dimestichezza con battle guarda lato positivo c'è oh c'è un cavallo c'è un cavallo nella prima guerra mondiale se l'ha fatti per morire così si infatti c'è tu il tuo scopo ecco lì perchè quando doveva saltare tu hai uno scudo umano e qua c'è anche la sciabola e qui dietro di te e dove vi protegge gli scudi umani dietro di te c'è di tutti degli scudi umani affinché gli ultimi riescono ad arrivare ammascia gente con sciabola faccio io bene il tuo figlio di puttano mia sciabola più affilata di vostre mia dara harra forte no 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 troia troia sono morto io per fare la sci di sma un mi sono anche imperato un due termine a memoria si dara har e scudo e dremach dremach che mi metteva dire su la sci di sma una la conquista di dremach no 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 le crone le di la shider supporto e cazuta eh è la mitratrice quella io dara har in legno protegge un cazzo ma guarda come guarda come guarda come è fiera è la mia classe preferita dopo basta si vabbè l'altro che aveva il braccio mezzo braccio che sei esposto se c'è un centino la e guarda che io per quanto ho fatto cagare la prima volta sono arrivato sono arrivato cos'era settimo sono arrivato sparagli non avere pietà è raschid no raschid uccida raschid raschid bravo raschid grazie dai qua che faccio il cerchio ok comunque è la prima volta ho fatto cagare insegnami r1 scout scout team fortress prema x eh si aspetta sai che ricordo lì eh cancel cancel adesso deploy cioè spuna bene adesso camperone e là camperone dove sono merda sono dappertutto giù giù via a terra hai voglia di ritrovare adesso no noi sono il cecchino non dobbiamo andare in prima fila la carta la pistola poi anche la frag granade come il cazzo si chiama ah no mi sa che vuoi evolvere non è una pistola normale perché vabbè sei un po' sbilanciato se la tieni una mano è una pistola eh si la tieni una mano è una pistola ovvio la grezzetta oppure se vuoi fare il fiol fai io due fucili due mani così ok bene cao no è più a sinistra il combattimento no guardagli che spara qui cavolo vedo muoversi vedo muoversi vedo i turchi vedo i turchi vedo un Rashid è morto pfff no petra l'ho visto anch'io dai ho ucciso Rashid giù no devi caricare cavolo eh ma te lo dimentichi sempre eh lo so pensavo lo facessi da solo stai skipper revive skipper revive skipper revive come si chiama quello devi stare strigliato ragazzi per me è strigliato avessato così non ti vedono guarda guarda che per quanto facevo cagare sono arrivato ottavo in treda persone come facciamo quella classifica giù cavolo non lo so è questo il problema come si fa qui come si fa eh sei già morto bravo dai stai zitto un po' che è difficile ma mi hanno preso sotto il cavallo ma se mi arrivano da dietro un cecchino qua è lo stesso principio di call of duty cioè se è un cecchino deve essere portato in tre elettrofie ti arrivo un cavallo da dietro nessuno l'ha bloccato ci provo l'ultima volta questa volta qui però mi guardo io guarda subito dietro è libero è libero bene guarda ma guarda te turchia portami via l'ho preso ma è sopravvissuto però gli fa male il culo si ma non so se la cavalleria è OP oppure è esposta come una cosa in vetrina non lo so e lo vedi lo vedi lo vedi eccolo lì eccolo lì l'ho visto vabbè è passato ormai cavolo lo vedevo ricarica ehi ma devo premere io per forza ogni volta che cavolo merda mi sta sperando è perchè sono l'ha preso no no l'è mancato in carica mi hanno colpito ehm forse non so oh porca terzo pistola 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 dai che dietro di te cosa hai fatto cavolo la no è un po' lento il perlomino eh va bene non siamo ehm ehm non so se l'hanno ucciso allora o l'hanno ucciso loro oppure l'hai mancato come il medico medic god the fuck are you doing la ne vedo uno che è esposto come un eh lo so ma cavolo sono ok siamo sempre qua siamo sempre qua siamo sempre qua cavolo ragazzi sei hardcore mi stra piace cavolo ogni volta oh no eh bravo posso fare io adesso oh finalmente un cavallo ma ti ha preso sotto il cavallo no non ho capito no era un fucigliare che ha scoputo c'è scritto cavallo sotto che ti ha ucciso no vediamo un po' il supporto no no io ho visto un cavalliere forse era un cavalliere un uomo a cavallo eh ci sono cavalli qua eccone no è un alleato cavallo portami sulle spalle portami su ah dove lo vedo no io ah eccolo è esposto è morto no no il cavallo è vivo il cavallo è vivo dai che me lo ciullo dai che me lo cavolo che roba aspetta 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 no no il cavallo no che sei troppo sposto oh porca tra un tank dalla tua parte stava andando verso un nemico ah ok e me lo avrei vedere forca putt vieni fuori vieni fuori si sono ferito come con la merda eh hai 24 di vita lo so vuol dire che due colpi dovrei morire mi sa che mi ha lasciato in pace sa ha avuto pietà no 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 oh bravo mi stava sparando il gas ah non posso mirare con la con la maschina di gas eh peccato eh potresti almeno si si sto qua così almeno aspetta che la tolgo oh adesso si che si sta oh bene alzati alzati che ora ti ritrovi davanti per me pronto? no no dobbiamo stare coppè 60 come? è perchè io non ti sfotto perchè sono una persona buona bravo oh oh basta smettiamolo e lo sniper è la classe migliore se lo sai come usare eh eh se lo sai come usare aumentati la sensibilità perchè veramente eh eh è comodo come guidare un taxi con un bambino eh gli sono sponato sul culo sto qua si dov'essere migliorabile vabbè una volta spara raffica una volta quando sono morto è sprofondato guarda che si è sposto lo so lo so mi risponde il fuoco chi sto sparando? ecco ha uno che deve ucciso esatto iuveses foe foe deve morire cecchino sniper sai che cosa vuol dire foe? nemico probabilmente foe? nooo siiii cercatelo su google translate nooo ancora mattina mi dai vabbè mi son trovato la sta scarpa in faccia bene bella vabbè questo qua c'era porca troia vabbè dai qua l'avevo quasi ucciso eh è 39 di che belli che sono i turchi io voglio mettermi turco ma non con il col suo nello scusso di posso avere un pretesto per fare la città io riesci 10 ma un missione per tunisi mi sa che tanto che stiamo perdendo forse vedo che gli inglesi 2 è perché l'inghilterra è tipo l'italia in guerra ma non si fateci inglesi ok ora piano 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 giù qua ecco non sai quanti campi ha meno ucciso tu puoi fare loro la stessa ah abbiamo perso bene bene allora vediamo siamo settimi e non è neanche male contando settimi su una cosa di 27 persone però mi piace server grossi e beh non come quello di tutti 5 preso basta ora siamo qua noi eeeh inghilteresi mi sembra bastardi non ne posso più le dire ma per me questo qua non è prima guerra mondiale sarà tipo il 2000 il 2050 il 2050 inghilterra contro non europea cavolo qua il cecchino ci sta assolutamente aspetta che mi metta a camperare oh mi sento il car of duty style dun 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 è risposto come una banda no vabbè così mi vedono poco si si ma prima che eri in piedi guarda 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 che sono stati stagliati guarda eh non c'è nessuno vabbè per te no figlia sono camperati eh anche gli altri stanno camperando guarda la che infatti eh amico guarda qua queste rocce le cose sono fatte apposta credo che non ti capiti qualcuno che ti prende la testa eh infatti infatti sto stagliando c'è quelli come te che mirano la testa oh che hanno visto uno la no è stata la mia anima immaginazione tu pensai in guerra che si pensavano hanno visto uno i giapponesi non dicono è stata la mia immaginazione dicono è stata la mia animazione animazione oh che schifo ecco te la vedo che si spara ah comunque qua è tutto interagibile vedi che quando un tank colpiva un albero cadeva l'albero è un nemico guarda ricarica ricorda che va a finire che devo correre e raggiungere il madonna mia parte e vabbè o guarda che qui per ora ecco guardate qua bel pochino porca vacca ma se c'è il tank io non passo col cecchino miri al miri al buco miri al buco di scarico qua è meglio di granuga meglio metterci la pistola qua eh ho sentito uno sparo non so se era un amico niente siamo in guerra ricorda uccidi e basta obiettivo 2 non ho capito occhio occhio vedi tutti ha fatto un headshot no hai sbagliato è quasi mancato quasi vieni fuori metti fuori la testina ciccino bello eh c'è passato il mio caro armato quindi non penso che non vanno quindi o è piuttosto parte integrante del deserto oppure si è fuso il caro armato ho visto uno eh vedi che non sciottano carica troia prendi bene alla mira dopo spari eh ma porca vacca bisogna essere veloci guarda la vabbè infatti che non era di sfuggita quindi poteva che mi veniva un po' meglio porca vacca via via che c'è una qua vicino ora eh ne ho visto uno eh ne ho visto uno merda sai che poi non c'è le granate perchè non ho mai detto come faccio eh l1 mi sembra cavolo beh l1 r1 premi premi roba casa no ma più ora devo cambiare classe perchè non sta bene qua cioè si è utile ma ci vuole troppa pazienza il fuciliere assalto allora al medico o alla scacciacani il medico non fa tanto quello con la metri elettrice no questo qua è assalto questo qua è assalto perchè siamo in assalto bisogna metterci perchè c'è chi stanno qua ma nelle rovine è difficile colpire che già eh i danni l'attività dei fucili infatti giustamente avete le estensioni aperte e fagli passare meglio venite solo fagli passare meglio cavolo sono esposto ci manca solo il cretello passare qui raggi sono amici quindi dobbiamo andare qua bene no mi piace molto perchè è tattico per ora a differenza di tu fai e di chi fai quello di di sto farendo parca troia che rinculo che c'è cioè siamo miliziani noi evocati così evocati così cavolo aspetta no no in guerra buttano quel che trovano anche se un tipo forchetta porca vacca si grazie si c'hai il tech fermo no no eh vabbè se non guidai nessuno ti aspettavi cioè un soldato si metterebbe dentro il cararmato quindi si beca tu beh già anche se è fermo pensano a quello di è distrutturato che non si muove BOOM in faccia ah guarda che qua 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 vai sulla cosa che hacker si hacker si hacker mi tira bomba eh si sono tunisino raschid muori 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 gli hai tirato una palata in testa lo sai eh guarda i loro oppure anche le mazze però ne ha ucciso uno son figo le palazze ma cos'è foh eh su sei un nemico perchè eh si in pokemon c'era un tipo ragazzo uno scrittore che si chiamava da foh da foh il nemico no era uno scrittore che si chiamava da foh quindi ho preso che foh fosse un nome da foh per esercizio vabbè eh quando c'è c'è eh la rovina qua qua si che ci stava e lo sniper eh è esposto ragazzi eh mhm ho imparato a cambiare però per un po' l'auto devi aumentare la sensibilità e sto da sviluppo lo so devo aumentare eh però poi quando mi rievo e fare così da quanto è messo io so che tutti vingo sinistro perchè c'è la sensibilità molto alta questo qua è com'è ho che non fanno imprendere sotto le mie stesse ma non so se muore se dipendono tutti i terriati ma non credo orca vacca devi stare attento a rettile ma dai ma non si mira male con questo adesso lo faccio io vai te ammettati la sensibilità affidati ok hop dove è hop 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 eh si la ghicchia un po' eh eh gameplay eh dov'è ah bene capisci l'inglese no? si sensibilità sensibilità dove cazzo è sensibilità oggi ecco qua zoom ecco stick sensitivity su di una destra grazie right stick 50 50 e 50 anche l'altro eh non so cosa voglia dire la mi fido si faccio bene farai morto resume resume viva l'italese no no dove spawno mi fa spawnare in mezzo al deserto cosa hai preso? quella mitraglietta figa come ti senti ora? eh ora si che sei pro ora si che sei pro sai che fare cioè spara e rashid c'è un carri armato piccolo a destra di cogliela utili da salve se vuoi prendertelo ah questo qua bello ha messo con immagine di copertina questo carro uzzio immagine di copertina co? ah nel mio video bene dov'è il carro? c'è il cannone si spara io distrugge tutto ah però siamo spaccati quasi vedi che è 22 ah beh ho fatto quello che posso si una volta con l'auto non so se era auto ho fatto sinistra nemico nemico spara ancora ancora non morto finiscilo ancora vivo eh distrugge tutto è esploso? non è esploso? pronto? dov'è? dov'è? la visuale carri dai no distruggo la vostra oh siiii bella questa no a questo qua sparali in fondo sparali in fondo allo ct a ecco l'altro è stato bravo è stato bravo ha detto tu non uccide i miei compagni di tunisia uniti ah c'è anche un cavallo benissimo no i cavalli sono non li usati non so se sono piu o magari sposti non sapremo ne accusare la fanteria figurati dai cavalli bene e una volta ci avevo provato facciamo smontare se vuoi guarda che possibile cazzo eh non è che sei non è che sei bloccato ma come fa ad andare più veloce scusate non lo so bene tieni per il mutuo A ah? oh cazzo la cronata lo buttò taglioso tieni per mutuo A lì 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 vai mi ricorda veramente di scendere il primo film cavolo sei preciso anche se a cavallo io ammazza tu ammazza tu io gambia prendeciavo la massa per miglia ok stai facendo schifo lo so lo so dove 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 ah l'ho perso ah no è morto ok è morto l'ho ucciso io no 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 scendi 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 bene bravo per ora ah perché lo scacciacani? eh no fa danni sta cosa penso eh è lunga distanza cos'è? ah avevo trovato un fucile pesante che aveva un solo colpo caricatore però madò dovevi stare disteso perchè non potevi usare la normale però però un colpo ti shottava merda vado ah col club mi hai tirato ora qua siamo più in campo aperto sniper direi io provo io? no hai già fatto ok eh cavalli no questo qui questo qui eh eh si devi puntare sul culo perchè magari te li prendi alle spalle o voglia di questo si bene spara io non vedo la mitraglietta però dove c'è la mitraglietta? io ne so si spara magia siamo noi siamo noi la mitraglietta siamo noi la mitraglietta oh oh avevo una grata sotto il culo però scendi che ti stanno bersagliando eh lo so ma è il vestione di te bombine questo carro esplode ma quando vedo la resistenza eh siamo siamo abbastanza no abbastanza presi male fuck 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 oh merdi mi ripero sotto il culo dovevo riparati ma spero che non merda no che fai? eh vabbè ma io come nella vita reale mi butto sotto le macchine è vero infatti non sapete quante volte io altra gente l'abbiamo salvato eh iii col tank adesso mi fottete io land ship evitare no aspetta like tank quello la leggero io 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 ok tieniti i tank leggero vai ah ah con si con triangolo eh non so fai tipo che ne so fa il colore avvicinato questo qua è quello da lontananza quello è quello avvicinato bene ho uscito uno come è che ne hai sottato oh spara spara bene siamo a tutti bene guardate che non glielo lascio non gli permetti di usarlo eh aspetta che siamo qui siamo un bel bersaglio aspetta non mi sa che si è spaccato si si mi sa è decisamente spaccato no quello un cavallo che non se ne resta la fermo che devo fare ora volevi volevi se hai passato sopra una granata come se fosse un un tappeto guarda che c'è un modo di fare le riparazioni quello alleato stanno uccidendo un alleato hai ucciso come faccio riparare scusa me lo diceva prima eh boh ecco qua esci da sinistra che stai facendo? le sto riparando mi sa ah stai riparando mi che stai facendo scusa? stai con prima a sinistra eh che stai facendo scusa? non lo so vabbè va avanti va avanti va avanti allora prima a sinistra beh eh sotto a metto qua va bene va bene ma sotto non so cosa si è quello sotto proiettili forse non si spara i miei amici ecco qua passa la banda eh vi trasporta dico io si la banda diciamo che è la guerra che fanno i tamburi cavolo se però vestissi in casa qua eh si in realtà dovrebbe passare di sopra come se fosse un tappeto perché vedo nemici io qua avanti merda caro nemico questo qua mi sa che è più rinforzato si morirà comunque se mi metto qua davanti può sentire passagli sopra passagli sopra fammi sto piagere non posso ti sto distruggendo so eh ti stanno distruggendo c'è un incendio tieni premuto quadrato mi dispiace vabbè ho fatto i miei danni però ragazzi quanti amici sei quattro e cinque? ma è abbastanza sì sì bene mi piace cechino ora ci deve essere lo scout cechino scout un attimo che dammi un po' più filo qua stiamo vincendo o stiamo perdendo? non lo so tu tira di giù che esatto tira di giù guardiamo il vantaggio della squadra dov'è? no esposto esposto però ora non vedo nemici ecco no sto scherzando cavolo 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 quello era l'alleato spero sì c'è lasciato porca vacca no eh lo vedo vedo anche dei proiettili a rally a rally che ti ritirà eh ragazzi sei sicuro che ero nemico? eh lo colpito se è nemico eh vedi che c'è anche il tempo di ehm va bene e provaci ricarico ricarico eh ma non c'è modo per andare avanti lo zoom no non credo oh hai già trovato se lo zoom eh perchè nella prima guerra ricarica eh porca trogna matemelo dimentico col ciglio stai per sparaglia mettilo ma io sto cavolo ma io sto cavolo no stai qua stai qua un attimo che ti ti rendo vita NEMICO porca vacca mi ha perceduto eh ti è perceduto eh ti è perceduto no non ho un po' di catacolo merda dice un card sempre durante i gameplay dei veri catacolo no porca vacca sfogiti un attimo un attimo un attimo ok nulla 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 vuoi andare avanti eh che l'hanno visto un po' porca vacca sei difficile beccatevi stare non portate beccatevi la granata in qua ti ho detto io che c'era la granata porca mira meglio eh difficile con sti roba ti ho detto io che era difficile ma tu non mi credi e ti sta mirando anche lui per me eh eh certo che si però io ho trattato prima e lui mi ha mancato eh dai quasi quasi dai spio dai dai arca vacca hai riparato non mi rigenero vai continuare a spararmi mi convinto che io mi esponda cominto che io prima o poi mi esponda prima o poi se aspetta prima o poi si esponda a fine della guerra lo trovi ancora lì che ti spara arca vacca un attimo è morto bene ah è morto io ho fatto un assist ok devo correre meglio eeeh bene correre a fare cosa mi sa che stiamo vincendo perchè abbiamo qualche tacca in più no aspetta mi sa che si impari oh lo vedo da lì che ti sta puntando no è morto no è morto ah è morto ok no si è mosso ma che ne so io va tranquillo che non lo prendi ok ok vado arrivo che ne so riparati Dio buono distraia ti spera che non ti abbia visto che sennò ti ti fa il suo tappeto personale guarda lì guarda lì che stiamo campionando eh ma e non puoi neanche sbagliare i cingoli mi sa che mi sa che non va più no sono scesi mi sembra porca vacca ci sta provando via via a terra amico mio bravo son tornato son tornato e c'hanno un carro lì e c'hanno due porca vacca quanto si va male aspetta che si fermi almeno o che sei sicuro ma che cavolo tu non stai fermo quando sei in guerra ovvio no eh vabbè ma stai di mancarlo cavolo c'hanno un carro armato la città e adesso c'è anche il gas si lanciano la nostra integrità fisica ragazzi anche mentale per me perchè ci sta dando fuoco di soppressione avvicinati a te un po' che ora sto giocando io ma io devo avvicinare? no guarda guarda io li ho esposto come una ba ma porca troia quando si va male non mi vale questa roba e adesso col pad è difficile ecco perchè non ho aumentato la sensibilità orca vacca se noi ora stiamo in piedi dovremmo coprire meglio facciano più più anche noi non lo so è bello se aggiungessero anche lui orca vacca sa che siamo qui ci sta sparando comunque è ricarica che sei gay poca porca vacca oh l'ho preso è stato promosso bene bene una kill per me è ricarica che sei è lento è lento è lento comunque un headshot si headshot è mancato di poco ti sta provando ci sta provando dov'è? non lo so guarda che guarda che è fuori è fuori ooooh un altro headshot ooooh mister L destroy everybody no ok io ho paura di quel carro è ancora lì caro guarda che ricarico intanto merda guarda che c'è molizione chi mi dà adesso i colpi poi non lo so forse c'è qualcuno che mi dà devo buttarvi dal nemico non ci ho mai provato mi sa che c'è una classe bravo se è quello lì dobbiamo dire forca vacca mi stai facendo la rosa intorno dai un colpo un colpo ooooh se sto qui però non ha capito che in guerra si deve restare riparato esatto principalmente se è un prima guerra mondiale ex simulator si io la prima volta ero così è perchè nessuno va su questo carro qui perchè è distrutto guarda eh si è distrutto si io tipo provo a colpire attraverso il DOSTO cazzo credo sia anti camper qualcosa non pensavo mi vedessi ah non è nè che pui granate peccato o sei qua da chissà quanto tempo hai lasciato l'aria sotto il coso si e vai ho la trincea ragazzi la mia trincea porca troia c'è uno sniper a terra hai poca vita eh ti sa che ti hanno visto quella sto qua che proprio vai 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 che si spara se lui vede se lui vede se lui vede se vede guardate che spainaggio mi sta roba qua in bomba ah beh oh che ne so io guardate che la vita si ingenera 40 40 si va più veloce adesso va più veloce 40 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 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 42 via via non lo sai fare qui scopi potete di piccola e che edifici di questo gioco e satevola che nel sì che sono un posto hanno fatto un po' valere ragazzi via di finire la trabocco non è se sopravvissuto abbastanza è ora che è il tuo turno di fa voglio fare supporto perché mi piace ammita dietro fortemente ma ok mi tocca andare a piedi non ci sono forse qualcuno la macello però in quella zona gli sta attento e qualcuno può darmi un passato no non c'è un cazzo peccato c'era una ragazza venire per ora quello che visto per ora cos'è un gioco molto alitario veramente molto difficile al correga un po' camperino ma è un simulator di prima guerra mondiale è fatto fuori ma mi ha fatto fuori anche lui grazie ma se mi era bene almeno con la sensibilità così alta io prima andavo benissimo con cecchino dipende anche sono abituato a che mi fa alta impressione, stimo negative finchè uccidi sono positive cioè quindi io per ora ho visto se non è possibile grafica ci sta, design ci sta i luoghi permettono approcci diversi tanto confusionato va bene che è una beta ma per ora non ho ancora capito cosa devo fare quanto è come quasi la d'accia vai della tante è stato un po' che ho fatto io il coglione ho fatto io il coglione come come facciamo sempre come si deve fare quindi ha indovinato cavallo che cavallo no 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 non ti usai nemmeno a prenderlo no il cavallo suicidio tipo tutti oggi nemmeno fosse proprio un carreo armato ma perchè vedevo alcuni che correvano tanto più veloci sono io che non posso usare proprio si c'è vabbè che noi non abbiamo una certa, ti diceva i comandi almeno di cosa? ti venivano a dire ti comandi shhh, un tutorial li intendi? il tutorial non l'ho visto, mi sa che c'era forse qui no ma nella beta c'è ok giusto e vabbè ma c'è il gas, non vedo no, faccio io lo stesso sono stato... finchè non... ho appena appena mossi i nervi della mano ragazzi capito che stavo pretendendo... finchè non uccido almeno qualcuno tu non avrai più il joystick ok io... passami il cuscino a guardare un po' eh fai fatti stavo per dirtelo svegli, tieni il volume basso e svegliani quando ci riesco aspetta che mi allontano sempre ragazzi tieni il volume basso perché le cuffie di Chris sono buone e hanno una buona percezione allora non sentono, sentono poco noi ma sentono perfettamente quello che c'è fuori dalla finestra perfettamente è vero è la teoria della... quindi vai fuori dalla finestra questa è una delle tanti leggi di youtube con... le cuffie sentono poco te ma meglio... ma meglio quello che c'è fuori ecco bravo 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 niente se sei strutturato in me la seconda simile del gas cazzo dimmi che è la mia ah no è quella... è quella del gas scopri che è la mia eh stemmia che ho proprio che è la mia... è morto un po' c'è un tipo abitemiare che sono già morto la mia bocca è in un'altra parte rispetto alla faccia non so neanche io cosa fare abbiamo capito... ho perso... ho perso però dovremmo essere messi bene per quanto riguarda i chili noi abbiamo più chili settimo su 12 un po' schifetto vabbè la volta scolata ma va bene abbiamo più chili degli altri perché non abbiamo innescato niente vabbè conquista è meglio conquista è meglio facevo... facevo un casino vabbè il gameplay si interrompe qua vedo Pietro Smusi a sinistra ah eh no guarda che Kratos una volta in palestra si ha messo... è Kratos il pelato se l'ha messo a mezzo tra me e lui che stava facendo delle robe differenti arriva un pelato si mette in mezzo cazzo Pietro Smusi Pietro no mi sono fermato e mi sono messo a ridere e me l'ha detto io... è stato un po' dopo ho... dopo ci sono arrivato e gli ho detto ci vediamo Pietro vicino una volta in bus se proprio posso parlare di tutte le robe che ci sono successe no dobbiamo finire gameplay possiamo finirlo si volete che lo finiamo? ho sentito ho sentito un sì da qualche parte non eri tu quindi da qualche parte nel mondo qualcuno ha detto si vabbè vedete qua tutti i noob o pro che hanno vinto differenza nostra guardate... aspetta... personal personal... dov'è? guardateci la vergogna in persona adesso... ah no neanche neanche ottavi su 23 vabbè sti qua sono entrati a fine della partita fa niente... ah no un altro ma sono sempre ottavi vabbè fan c***o Turchia! Tunisia! Tunisia subito! dai non lo voglio farne un'altra cavolo ma ora faccio un po' quel caramale ah benissimo ora mi tocca dai ora... io... faccio la scelta smolta io... distrugge c***o d'inglese di qualcos'altro io porto morte e kebab ora io il mio carro è armato con due cavallini due poni di potenza due poni? distrugge esercito d'inglese inglese... qual è il vostro nome? inghilterronia inghilterronia britannia non so oh nulla eh io mi sento solo ora qualcuno ha sparato me cannonata io non apprezza Rashid no il Dio distrugge mie stesse guarda c'è un cavallo ah no quello c'è un nemico c'è un nemico cavacca quando ci va male usa quello... ah già non ce l'hai prendo sotto stai uscendo stai uscendo torna indietro non so c'è un campo di battaglia qua ed è riuscito torna indietro 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 due uno e... morto ah no non lo so sono salvato per un pelo per pochissimo per cos'è in mano? ah hai la pistola monca no un fucile ah è un fucile 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 veramente fucile? che cavolo è? cavolo merda di... è un fucile turco quello spara kebab il fucile di lascia qu'altra arma ho io? è una pistola monca ancora più morta orca vacca orca vacca quando... via 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 orca vacca via 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 esci di casa ti trovi un tank davanti ma ne avevo due si gira di 180 gradi e scappa guarda che posso cambiare un po' con il mio Rashid con il cerchino non dobbiamo smettere 5 minuti fa si dai smettiamo smettiamo va bene dai il gameplay finisce qua ragazzi ci si vede al prossimo video ciao a tutti